Another Rule, però le due parole sono attaccate e le due R, finale di Another e la prima di Rule, sono uniche, insomma risparmiamo con la crisi, risparmiamo con la R, pare poco. Allora, andiamo a vedere questa formazione uno per uno, gli elementi, ovviamente ruolo e strumento. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei? James Rossetti, voce basso. Basso? Ah, Fender Precision e con pedale Big Muff. Solo Big Muff. Solo un P. Testata e cassa? Da comprare. Vabbè, insomma uno comincia dall'inizio, poi dopo... Piano piano. Si vende e si ricompra. Si vende e si ricompra. Ok, vabbè, c'è tempo, poi sei giovane, quindi quanti anni c'hai? 32. E allora c'hai tempo, c'hai tempo. Poi abbiamo un signore, no dice hai tempo se ti comporti bene, lezioni di mafia numero due. Allora, abbiamo un signore che abbiamo già incontrato parecchi anni fa, eravamo al contestaccio, però adesso insomma è un po' cambiato, un po'... Una fredda notte. Sì, facevamo un freddo terribile. E invece è? Marco De Masi, chitarra e seconda voce. uso diverse chitarre, Fender Gibson e una Yamaha Antbeckia, amplificatore del basso Bassman, Fender Bassman, quattro coni e una schiera di pedali enorme, Fulton, maggioranza Fulton, tremolo Fulton, distorsione Fulton. Una cosa, una pedaliera assurda che praticamente dal suono originale della chitarra fino a quello che esce dalla cassa, praticamente esce tutta un'altra cosa, suoni una cosa ne esce un'altra. Più o meno sì, questo è l'intento. Però l'effetto finale è una bomba, mi ci piace. Dopodiché abbiamo un altro signore che abbiamo già incontrato in un'altra intervista, ma lì stavamo al Big Bang, non era contestaccio. Vedi le cose me ne ricordo anche a una certa età. Bene, e questo signore è? Marco Ricci, batteria. Io uso una MAPEX in acero. Poi piatti Ufip, Brilliant Series, pedale 1DV, 9000. Però è un pedale singolo, non è un doppio pedale? Pedale singolo, pedale singolo DV 9000. Cioè facciamo musica seria, siamo seri, è un pedale solo, è un doppio pedale, quello è una cosa solo per... Per adesso non abbiamo l'esigenza di usarlo. No, non lo fate. Non lo fate. Speriamo di non averla mai l'esigenza di usarlo. Ecco, sarebbe triste avere questa esigenza. Benissimo, allora, a questo punto c'è un altro nodo da sciogliere. Il nome Another Rule. Da dove viene, chi l'ha inventato e perché questo nome? Beh, io e Marco l'abbiamo trovato qualche anno fa. Non lo so, ci siamo messi a pensare un po' di nomi alla fine. Da dove viene però, aspetta, Another Rule. Era un bootleg. Ah, del bootleg di Nirvana. Da un bootleg di Nirvana. Di una canzone contenuta in un bootleg di Nirvana che si chiamava Another Rule. Another Rule, sì. E che vuol dire ovviamente un'altra regola. E da lì abbiamo scelto insomma di unire le due parole per, non lo so, che non ci piaceva un nome a parola unica e basta. Comunque nasce tutto. 2009? Sì, è Another Rule, sì, come band del 2009. Noi tre dal 2009. Sì, poi abbiamo avuto un bassista per un anno e mezzo. Non è andata a buon fine. Io sono tornato in Inghilterra per un anno, per motivi personali. E sono tornato poco più di un anno fa. E abbiamo ripreso, diciamo loro hanno lavorato nel mentre e abbiamo ripreso da dove abbiamo lasciato. Quindi con questa line up è un anno più o meno? Sì, un annetto sì. Abbiamo impiegato l'anno diciamo a lavorare sul disco, ai pezzi. Abbiamo dato molta importanza ai pezzi. Questo album è di 10 brani, tutti cantati in inglese. Perché cantati in inglese? Perché sono inglese, quindi c'è senso. Parli benissimo italiano, però insomma... Sì, sono nato a Londra, mamma inglese, cresciuto là praticamente, 15 anni in Inghilterra, a Londra. Sempre fatto musica in inglese, quindi mi è venuto naturale. Mi viene naturale. Come si chiama? Another Rule. Come è giusto che sia, perché il primo, il primo album deve avere il nome del gruppo. Questo è un must assoluto. Abbiamo sperimentato negli anni precedenti e riascoltando abbiamo capito in che direzione volevamo andare. Diciamo musica, hanno lavorato Marco e Marco più che altro prima che arrivassi io. Poi abbiamo cambiato un po' di cose in fase registrazione. Parole le ho scritte io con Marco. Basta, non so, melodie anche insieme con Marco. Per quanto riguarda la copertina, è un progetto grafico, abbiamo fatto tutte e tre insieme, comunque fondamentalmente. Però anche la storia della copertina viene dalla precedente formazione, perché era una foto che ha fatto una Kimberly Ross, che è una fotografa, anche lei di origine, credo americana, di Kim. e praticamente in copertina si vede proprio lei, è proprio lei la protagonista della foto. Era una delle foto che ci aveva dato per poter usare all'epoca. Non l'abbiamo usata più, l'abbiamo fatto adesso, perché comunque c'era rimasta, ci aveva comunque molto colpito e è un po', è abbastanza, come dire, incisiva e rispecchia, secondo noi rispecchia anche molto il nostro stile. Sicuramente è molto più quello attuale che non quello passato, che come diceva Marco, aveva un'altra direzione. All'interno ci sono anche altre foto, che ha fatto anche un'altra fotografa molto brava, che si chiama Lucia Ferrario, che ringraziamo insieme a Kim. E per il progetto grafico l'abbiamo studiato noi, noi tre insieme, proprio per cercare di avere un po' un controllo totale sul prodotto e che ci rispecchiasse il più possibile. Diciamo che è un prodotto veramente fatto tutto in casa, fatto tutto da noi, senza l'aiuto di nessuno, credo. Dal registrazione, missaggio, abbiamo fatto tutto noi, insomma. Se uno dice, mazzo quanto è bello, lo voglio subito, dove lo devo andare a cercare? Può scrivere direttamente, per ora può scrivere direttamente sul nostro Facebook, sul nostro MySpace e chiedercelo innanzitutto. A breve sarà sugli store online, iTunes, Amazon, eccetera. E puntiamo comunque sì di venderlo soprattutto dal vivo. E ovviamente per avere le date dei vostri live, la cosa giusta è andare su Facebook a controllare. Sì, Facebook, sì MySpace. Quindi voi usate MySpace? Cioè il nuovo MySpace. Cioè nessuno sa ancora questa cosa. Cioè? Che Justin Timberlake ha rilevato MySpace per dargli un nuovo volto. E quindi, non lo so, hanno creato una nuova grafica, una nuova interfaccia sulla scia di Facebook, quindi di condividere attraverso dei gruppi, eccetera. E niente, quindi noi siamo stati tra i primi a ricreare la pagina sul nuovo MySpace e speriamo che continui a funzionare, anche perché l'abbiamo usato parecchio in passato. Ah, quindi conservando il vecchio profilo si passa al nuovo. Si, si passa al nuovo. Abbiamo messo in rete comunque, per fare un preascolto, per far ascoltare alcuni dei nostri brani, tra cui c'è anche un video fatto sempre da Lucia Ferrario, che ringraziamo comunque. Tramite queste visualizzazioni su YouTube, comunque abbiamo ricevuto anche grandissimi complimenti anche da ascoltatori all'estero. Addirittura, sì, mi ha scritto un ragazzo dall'Argentina che ha sentito i brani, oppure una ragazza olandese. Un ragazzo addirittura, due ragazzi dal Marocco addirittura, quindi questa cosa ci fa molto piacere e anche per questo che comunque forse il fatto che cantiamo in inglese ci permetta di arrivare sicuramente anche posti che non siano necessariamente Roma o l'Italia. Avete fatto anche dei live, no? Sì, pochi, perché come dicevo ci siamo concentrati più sullo scrivere. Adesso pochi, però nel 2010-2009 con la vecchia formazione abbiamo fatto parecchi live in giro per l'Italia. Abbiamo suonato anche nel nome del rock, nel festival, con gli Archie Bronson outfit inglesi, sempre nel 2010. Ma erano questi i brani di questo disco? Era una musica, sì, avevamo fatto un demo e comunque sostanzialmente la musica era diversa, era un po' più british, c'era meno psichedelia, secondo me ci siamo evoluti molto negli ultimi due anni, siamo riusciti a creare una musica completa. Allora, invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare sul Facebook, sul MySpace di Another Rule e trovare tutte le informazioni di cui sentite il bisogno, ma soprattutto le date dei live per poterli andare ad ascoltare sul palco e poi volendo avere l'album con l'autografo, quella è la cosa più bella, avere l'autografo di tutti quanti. Allora, giovani, l'augurio è sempre in bocca al lupo, che si risponde? Crepi. Bene, non siete entusiasti però è così. Allora, spiego perché, allora, ho detto giovani, forse loro sì, io un po' meno, però no, ti freddo questa cosa giovani. Tu devi fa finta di niente, tu dici giovani sì è vero, tu devi dire sì è vero, non ti devi fare questo. Dai sì, e vai, cercate tre immagini. Allora, ci sentiamo presto, vi ringrazio per la partecipazione ai nostri programmi. Ciao. E il primo live è proprio al Sinister Noise venerdì 15 per la presentazione del disco. Allora, preparatevi, ci vediamo. Ciao. Ciao, grazie.